Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti pistacchio e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle, granella di pistacchi, albumi e zucchero semolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero. Senza lavare il boccale mettiamo all'interno del boccale le mandorle e le facciamo dridare per 30 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo lo zucchero a velo messo da parte, la granella di pistacchi e gli albumi. E facciamo impastare per un minuto a velocità spiga. avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e riponiamo in frigo per 30 minuti. Dopo aver ripreso l'impasto dal frigo adesso, aiutandosi con dello zucchero a velo, formeremo un salsicciotto. tagliamo trasversalmente il nostro salsicciotto, schiacciamoli leggermente. Posizioniamo sopra una mandorla e posizioniamoli in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i biscotti, spolverizziamoli con zucchero a velo. Adesso inforniamoli in forno statico a 160 gradi per 12-15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli intiepetire prima di servire. Biscotti, pistacchio e mandorle o paste di pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!